All'è ora di Biashtra, di Avalagna e di Ubaese di Cainzana, in due ci aspetta Pierrick Nanini per la prima data di un nuovo appuntamento in le città di Pestiloghi. Pierrick, buonasera, siete già qui ostre in Bidadi per farci scoprire Ubaese di Cainzana. Allora vi lascio la parola. C'è un paese popolato, assai e che è un territorio. C'è un territorio immenso, 18.000 ettari, la seconda più grande comunità di Cainzana, in due ci aspetta Pierrick Nanini per la prima data di un nuovo appuntamento in le città di Cainzana. 1.200 persone all'annata in paese e il doppio del città di Cainzana, come si basse la vita in paese. In questa comunità siamo 2.400, in paese siamo 1.200. Ma quest'anno, per rapporto a ciò che ci è passato, per rapporto a questa malattia, sicuramente non c'è il turismo a nostra Corsica e il nostro paese da soffre. Il nostro commerciante si vendiano sicuramente. e oggi, se ci sono assai il minimo mondo, sicuramente anche, maurosamente, poca clientela per poi le soddisfare. C'è un pensiero dei baisani per abortare a su Covid-19 sempre? Sicuramente c'è assai il pensiero per i nostri baisani e per tutti i commercianti dell'isola, ma non c'è il nostro rifugio in Cainzana. Sicuramente che abbiamo obviato tutte le norme per poi protegere, perché ci siamo mica, ce che è usato da passare, non sappiamo mica se siamo a dire lontano dalla bobotta, abbiamo messo a disposizione dei montagni e ammigliati di ietti di un nostro rifugio e hanno all'uja fuori come la decisione di un barca piada. E dei rifugio ne parleremo, dopo, prendere a qua uva, tutta l'attività su Stade d'Ocche, anche quello di Uvora, che dice il vostro sintomo, il vostro barren, un'altra bovestione che avessimo i già di luglio. Il nostro sintomo è semplice, l'attività ha calato di 75% e può essere che la calagherà ancora più. Si vede che in montagna c'è l'astore, c'è poca e poca gente e abbiamo tutti speranze che l'andrà appena meglio, ma siamo tutti in due rubini e qui siamo in Calinzana, la partenza di Uger 20 ed è visto da per boi, quando io ne sguassiniamo, allora che d'abitudine, aiante io ne spesso, partano, io ne sono, non c'è l'andrà in vero. Allora, in Calinzana c'è il mare che può essere in Duina, d'arri da me, ma c'è di noi a montagna, la vedetta, a volare acqua uva, e ci siamo andati di abartenza di Uger 20, figliulati al riborto che ne è muovato con Guillaume Leonetti. Due gulore che parlano ai montagnoli, ma eri pesi da Sidi Uger 20 erano boggi. Bersano ore, soffa, c'è di Sidi Uyamigi Baridgini, sberca di Amadina, hanno brevisto di raggiungo di Aconca, in Quindeggio. C'è venuto come questo, abbiamo fatto il primo giorno dove le ferie erano dispevano, il primo giù, quando le ferie erano inizia. E siamo andati su questo. Quanti minuti dopo, c'è il suo giorno un copio che è pronto a TIPA, perché si può essere in una montagna, c'è un pietro per lì. Se volete, c'è stato di trovare solo, perdere in una montagna, io credo che sia il caso, quindi non c'è. Non c'è tutto, non c'è nulla. Ma questi pochi giorni saranno i soli visti durante tre ore. E in i gaffei e i risturenti galinzaninchi, l'affare è lì stessa. Per subadrone, perdite economiche e so' grande, non ha mai visti così poca gente a sebi che qui. La stagione è complicata, c'è Nimo, l'abitudine del suo mondo, di Maggio, ma qui c'è poco a fare, quando noi non c'è l'amica, e qua, ma, par rapporto al Covid, in Corre di Ubaese, sotto il un accoglio dei turisti montagnoli, ma per ora, l'affare sono in francese, che è riservazione sotto fogo, e è gammere quasi tutte iode. In Calinzana, l'egonomia turistica conta assai. Una gattiva stagione così, di a prima orta bei i gomercenti, allora sperano tutti a Occhi, l'olio e a Occhi, permetteranno ai montagnoli da facassi numerosi. Allora, l'abbiamo inteso, sui borti i gomercenti, Eliso, in Panseridi, poi in Paese, in Calinzana, c'è quanto è assai, caffè, ristorante, biscutteria, hotel, come va per aiutare? Come va per aiutare? Abbiamo un giudizio, abbiamo fatto una decisione, insieme a tutto il domenio pubblico, che lo ha, ma i gomercenti, che stanno in Ammavergao, e vedremo un po' cosa può rimuovere, avendo la stagione, spero che finalmente, la nostra collettività di Corsica, ci avremo cari sui aggioni, per poter aiutare, ma è difficile, ogni Corsica vuole, con i prestigioni sporti, più a ma a dia, quelli che vengono qui, ci ha sapere di rigere, ci ha più a le consigliere di Corsica, ma so come quasi, avendo la stagione, i gonti, avendo la stagione, faremo tutto per aiutare, è la nostra possibilità. Allora, Paul Andracovi, alle muette e montagne, c'è Pogomondo, per i rifugi, hanno aberto un mese, ovunque, c'è stato di nuove misure, che sono stati di Bia, non si può più dormire, non si può dormire, non si può dormire, non si può dormire, non si può dormire, come si basa a UIDA, rammentiamo che qui, in Calanzana, c'è due rifugi, orto i Biobo e Carozza. Noi abbiamo lavorato con il barco regionale, che ci ha unito, più di un mese passato, e già, nel mese scorso, e abbiamo messo in ballo, un protocollo sanitario, abbiamo messo in ballo, i provisionali e la barca, e abbiamo messo in ballo, in una maniera che, il lavoro degli accompagnatori, di quelli che hanno fatto, e basse in alto Gervin, si basse nel migliore possibile, tutto rispettando le regole sanitarie, che lo Gio ha rispettato. parete, il è già stato messo in ballo, che la dì, fa dormire, hai un teore di privilegiare prima, i bivouac, e... Ha risolto la soluzione? Ha risolto la soluzione, nel primo tempo, quando non ragionavamo i Gues, il virus era sempre in ballo, forte, abbiamo ancora cominciato a calare, e non si poteva mica andare, al di là, di bella se mesura qui. Dopo, la barca ha fatto un sforzo, questo lo tengo a dire, perché ha fatto un sforzo importante, per gli accompagnatori, in fin del bagaglio, che il 50% di inutate. Allora, quando sapete, giocare l'agosto, viene da stagione, penso che certi accompagnatori, saranno belli felici, di una vecchia che mi dà a pagare, perché per loro, ne sono persuasi, la stagione adesso è proprio difficile, e dopo, d'ottobre, di novembre, di un taglio di biancorsura, io ero là, nella riunia. Giusto appunto, ci ne ha poco presso una centinaia di guidi, di accompagnatori, in montagna, e si dimenticate, certi, hanno abbiantato un mestiere? Certi, sicuro, perché per certi, sono cinque mesi che non lavorano mica, dunque, per campare, ci sono affari, allora, se mi mette, non ho affari, dopo, forse, mi dite, è meglio che, 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 e se, è un marito, anche, mani di accompagnatori, e se, se, si unisce qualche, qualche persona, sarà difficile, anche, di dirlo, andiamo, a gente, che, è buono, va. Dunque, c'è, assai, assai problemi, che sono belli, dopo, hanno un tempo appena più lungo, come, come, non vogliamo, va, perché, se, enti qui, ridurano, il suo impiego, ha, una maniera di, a, appena più, tranquillo, più, felice, e che, li, possono, campare, normalmente, una, città, darà. Allora, Pier Guidoni, l'attività, abituale, dei Stati, o alle, serate, otto, se, erano, donne? Beh, c'è un po' combustillato, perché finalmente hai abbiato un arrestato per superare tutte queste irrate perché hai la mia amica ma oggi hai scambiato tutti i giorni quindi apparemmente c'è una manifestazione che ha dato un canzone a musica classica e l'ha fatto in pubblico come ha detto il Presidente l'AIT ma non beco mica a rigetta so che la da esse perché c'è quantunque la propulsione che giunge perché quello che viene a Parigi va a giugare o iuino o piano non è mica il regalo quindi c'è una cosa che finalmente che le si non bruenti che tutto si passi e che le si giano che le si vende in qualche seconda all'erghiamo alla stratività come si passa? Allora certe misure che sono pillate per rispettare i protocolli degli anni sono proprio complicati da mettere un ballo e ragioniamo tutti i giorni abbiamo avuto un appuntamento in Codian con Cugionessi Sport e la regione per cercare di migliorare tutto questo spero che di qualche giorno le certe affari si arrangeranno e che noi potremo tutti lavorare normalmente ringraziare tra me in due ringraziare di noi e le squadre tecniche che hanno permette di andare su diretto ci rindurremo per conto nostro la settimana e saremo in Corsica Soutan in una regione dell'Alta Rocca Soutan 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 Soutan